Nicole Murgia a casa People ha confermato di aver scritto ad Edoardo Donnamaria su Instagram e di non aver ricevuto alcuna risposta. Ho mandato un messaggio ad Edoardo la sera stessa che era stato squalificato e non l'ha neanche visualizzato. Mi dispiacerebbe se Edoardo non mi ha risposto di proposito al messaggio perché da parte mia c'è sempre stata amicizia e abbiamo sempre parlato di vederci fuori. Successivamente ha ipotizzato il perché secondo lei non le avrebbe risposto. C'è chi dice che non sta usando Instagram per disintossicarsi. Chi invece sostiene che non mi ha risposto perché non ha visto il messaggio. Virgolette punto. Quando le è stato fatto notare che Antonella Fiordelisi è rimasta felice nel sapere che Edoardo Donnamaria non aveva risposto al suo messaggio. L'attrice ha aggiunto. Lei sarebbe felice pure se non rispondesse a Micolo Tavassi. Nicole Murgia. Fra me ed Edoardo nessun bacio. Bacio fra me ed Edoardo dentro al van? No. Non c'è stato nessun bacio fra me e Donnamaria. Lui non ci ha mai provato. Esiste un video online di me che parlo di un bacio. È vero. Ma mi riferivo a un altro contesto e soprattutto parlavo di Antonino. Quello che mi preme chiarire è che capisco il pubblico e rispetto la loro percezione. Ma per chi ha vissuto la casa sa benissimo che non c'è mai stato mezzo dubbio sul fatto che io ed Edoardo fossimo amici. Siamo due persone coccolose. Nicole Murgia probabilmente non era ancora a conoscenza del fatto che Donnamaria come ha confessato a casa chi il suo messaggio l'ha visto ma non lo ha aperto di proposito per non far arrabbiare Antonella Fiordelisi. Non ho sentito la Murgia. Assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa. Grazie. Grazie.